Torna anche quest'anno la benedizione degli animali nel sagrato della parrocchia di San Marco Evangelista, un momento di preghiera dedicato agli amici a quattro zampe, celebrato in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. Le temperature particolarmente basse non hanno infatti scoraggiato i fedeli, che hanno accompagnato i loro cagnolini dai più piccoli e più grandi davanti la chiesa, nel pomeriggio di martedì 17 gennaio, giorno in cui viene celebrato il santo, considerato il protettore degli animali domestici, un'iniziativa curata dalla parrocchia insieme al comitato di quartiere. Il comitato di quartiere Balati Pinzello, come ogni anno, in collaborazione con la parrocchia San Marco e la disponibilità di padre Lovetere, si organizza la benedizione degli animali, visto che oggi è Sant'Antonio Abate, 17 gennaio, come ogni anno. Molti tengono a questo tipo di manifestazione, infatti ci sono molte persone, anche che c'è un po' di freddino, ma noi ci accontentiamo e siamo sempre disponibili per il quartiere e anche per quelli che vengono da fuori i quartieri. Nel frattempo il comitato di quartiere Balati Pinzelli chiede un intervento di manutenzione nell'area di sgambettamento che si trova all'interno della Villa Monica. Da circa 4 anni, forse più, il muro di Cinda è caduto per problemi delle condizioni atmosferiche avverse e da allora non è stato più ripristinato, perché anche in molti non vogliono venire perché si preoccupa che non c'è più la sicurezza che i propri cani all'interno possono andarsene e magari vanno a finire sotto qualche macchina. Da tanto tempo che aspettiamo, più volte l'abbiamo rappresentato, però non siamo stati fortunati, ma diciamo che siamo fiduciosi e non ci arrendiamo di poter risolvere anche questa problematica di Villa Monica.